Sono presso la pensilina Liberty della città vecchia di Taranto e sono con uno special guest, un ospite speciale, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Ciao Rinaldo! E allora Rinaldo, guarda, ti ho portato presso la pensilina Liberty, così vedrai tu stesso con i tuoi occhi la melma, la merda, gli scarichi, i liquami che poi vanno a finire a mare. Guarda Rinaldo, guarda questo verde putrido, guarda e soprattutto purtroppo Rinaldo le tue narici oggi dovranno sorbirsi la puzza, quella puzza che i cittadini ogni giorno sono costretti a patire. Guarda, ti dovresti tappare il naso Rinaldo, ti dovresti tappare il naso perché si muore. Allora, quando tu imparerai un po' a girare la città, io non avrò più bisogno di portarti, però ora è necessario far vedere almeno virtualmente la presenza del sindaco. Ma caro Rinaldo, rispetto all'ultima volta la situazione è peggiorata. Uno perché i liquami sono ancora più aumentati, ma addirittura si uniscono anche sacchetti dell'immondizia. Per carità ci sono gli spoccaccioni, però caro Rinaldo, chi ma ambiente amio deve intervenire. Se ci sono degli scarichi, tu ti devi rivolgere anche agli enti preposti. Rinaldo, queste cose tu le sai, ma Rinaldo, scusami, tu hai detto che stai seminando la rinascita, hai detto che il meglio viene ora e, scusate, mi fate sentire una cosa? Guardate, ascoltate cosa ha detto Rinaldo. Questa è una città dove invece c'è ordine, c'è pulizia. Rinaldo, vedi che se continui a dire queste cose, non vorrei che ti crescesse il naso come Pinocchio e diventasse molto più lungo. Rinaldo, tu hai detto che la città è ordinata e pulita. E che cazzo? E che ci prendi per i fondelli? Ci prendi per il culo? La città è ordinata e pulita? E qui, scusa Rinaldo, siamo a Taranto o siamo in un paese sottosviluppato? Rinaldo, ora basta, voglio scherzare, voglio ridere con te, per ora mi stai facendo incazzare, davvero mi stai facendo incazzare. Ora basta, abbi rispetto dei cittadini, una volta per tutte. E ora basta. Grazie a tutti.